Adoro le storie di riscatto. La mia non è in vendita. È difficile credere che tu sia un demone. Il mio vero volto ti turberebbe, Cage. La tua Hollywood è piena di malvagi. Lo capisci anche senza Chris. Hai pessimo gusto per i travestimenti. Non mi perdonerai mai, vero? Io lotterò senza paura finché non sarò assolta. Sei davvero incredibile, donna. Così eri sposato, eh? E ha deciso di lasciarmi, capisci? Sei arrivato in ritardo, terrestri. Beh, perdonami, Tenkop. Per adesso non ho segni del Tarkat. Forse i terrestri sono immuni. Era un tribuno dell'esercito imperiale, Cage. E io ho recitato nei nuovi eroi, capirai. Se Shang Tsung verrà a cercarmi, lo ridurrò in pezzi. Hai due maracas grosse così, baracca. Non tornare nel regno esterno. Perché? Le donne sono pazze di me. Prima o poi, Kitana cadrà vittima del mio fascino. Mi hai chiesto se ho un almanacco sportivo dal futuro. Fa niente. Era solo un'idea. Sarà mitico. Io farò un kickboxer e tu un lottatore di strada. La mia risposta è ancora no. Ciò che ti riserva il futuro è disastroso. Cosa? Divento un cyborg o roba simile? Deve essere dura a restare lucidi dopo miliardi di vite. Lo spettacolo deve continuare. Che ne dici di liberare i mastini della guerra? Preparati a piangere, Avik. Questo corpo orrendo ti sta bene? Sapessi il terrore che incute a Seido non diresti così. Sei davvero inguardabile. Il mio volto è l'ultimo dei tuoi problemi. Tu non mi prendi sul serio. Ma i specchi in casa. Finalmente il Johnny dell'Hollywood Boulevard. Ringrazio che non sono un'imitazione scadente. Due Johnny, una dimensione. Sì, gioco di squadra. Non mi serve un sosia per la mia biografia. Sono la tua fotocopia. Anche in combattimento. Adesso non intendo scommettere, sento. Ti ringrazio per aver accettato la parte. Grazie a te per i consigli. Forza, Johnny. 40 Chuck bastano. Deve essere più che perfetta. No, padre Ninja 4 era peccato mortale. Il 3 era Requiem. Visto uno, visti tutti. Con che insolenza ti sei permesso di chiamarmi Bocconcino? Calma, gattina. È un modo di dire. A qualcuna potresti piacere. Ma di certo non a me. Accetto la sfida. Indossi quell'abito come se gli facessi un favore. Non puoi averlo detto. Quanti anni hai? Andiamo. Una come te deve stare con uno come me. Terrestre. Hai per caso perso il cervello? Ti ho visto sorridere, Accina. Ti piaccio. No, Cage. È che sei ridicolo. Quale sarà il titolo del film su di noi? Mortal Kombat. Come faccio a diventare una stella? Devi essere come me. Credi che Madame Boo ci stia provando? Senza dubbio. Tu sei proprio il suo tipo. Le scene d'azione distruggono la schiena. Davvero stai già accampando scuse? Sto cercando una protagonista femminile. Consigli? Prova con la sorella di Raiden. Non vuoi diventare una stella del cinema? I monaci me lo vietano, Johnny. Perché sei esperto di forze dell'ordine? Mia madre era in polizia. Con lei non si scherzava. Passi la tua vita a creare fantasie. A crearle? Cara, io sono la fantasia. Alle star come me serve protezione continua. Non riesco a immaginare un lavoro più ingrato. Conoscerai un sacco di storie. Sì, ma non certo a te. Chi avrei rimorchiato la volta scorsa? Niente spoiler, Johnny Cage. Non so come, ma sei riuscito a migliorarmi. Avrei dovuto renderti più umile, invece. C'è di meglio al mondo che ricchezza e gloria. Aspetta, eri serio? Dare sento a Kenshi è stato molto nobile. Per ciò che ha fatto, se la meritava. Adesso ti dimostrerò perché hai raschiato il pavimento. Porca vacca, era la Miyagi. Dalle mie parti, le principesse non imparano colpi proibiti. Che razza di immaginazione limitata. Nulla è più bollente di una principessa guerriera. Occhio Cage, rischi di scottarti. Sarai pure un campione, ma rimani sempre un plebeo. Plebeo? Ok, sono offeso. Dicono che tu non sia un bravo attore. Perché leggi le riviste di settore? Mia sorella non ti vorrà mai. Sì, l'avevo intuito quando mi ha preso a schiaffi. Non ti incuto alcun terrore. Ho visto di peggio nei weekend sul Sunset. Perché le vampire sono sempre così sexy? Per potervi sedurre meglio. Le storie di vampiri non invecchiano mai. Nemmeno i veterniani, terrestre. Ormai la terra è spacciata, Cage. Veternus! Dici di tagliare il monologo e andare avanti. Ti ho visto che adocchiavi Kitana al torneo. Era così evidente, Johnny. Vedere Milina mutare in taccata ne è stato... Un incontro ravvicinato del peggior tipo. Devi fare ritorno alla V-Sci e allenarti. Finisco di girare Padre Ninja e sono vostro. Come va, tuono Kid? Per gli dei anziani, odio quel soprannome. Andiamo, ti farò avere un pass VIP per Time Quake. Dubito che Lord Liu Kang voglia che venga alla Cage Con. Sei un campione, amico mio. Allora combatterò fino alla fine. È vero che sei scappato da una ex infuriata? A Monaco? Sembra un'eternità. Te l'avevo detto, non è facile trattare con Madame Abou. Vorrei che fosse il mio agente. Sole o saette, ti farò il culo a fette. Il tuo umorismo è seccante, terrestre. La tua vittoria sarà un buco nell'acqua. Sono stanco delle tue spacconate, Cage. Non hai speranze se ti batti con me. Che ti sei fumato? Ho saputo che il tuo talento è solo una truffa. I pugni che ti darò saranno molto veri. Non puoi fuggire, Reiko. Ti annienterò, terrestre. Cosa ti ha reso così forte? La guida è la disciplina del generale. Non sei credibile come eroe. Il mio conto in banca dice il contrario. La guerra che fai tu è solo una finzione. Solo perché si combatte a colpi di botteghino? Combatterò con tutta la mia forza. Bene, non sopporto i lavativi. Perché mi hai fatto guardare, Predator? Dopo quello che abbiamo passato, ti ha fatto paura? Sai, Zot, è difficile. Posso chiamarti Rettile. Solo se riuscirai a battermi. Umanoide o Rettiloide, non è scampo. Vedo che non hai mai affrontato uno zaterrano. Devi aiutarmi a trovare Bi-Han. Sai che ho fatto l'investigatore solo in tv, vero? Pensi che tua moglie tornerà? Non credo proprio che succederà. Bi-Han ti ha bruciato come all'inferno? Brucerà per aver tradito mio padre. La tua dimora era senza dubbio molto eccentrica. Un vantaggio della fama, tutto incluso. Il Red Carpet regala sensazioni uniche. La fama non è altro che un'illusione. Il tuo laboratorio è il luogo più orrendo del mondo. L'ho arredato ispirandomi al tuo istinto creativo. I codardi muoiono mille volte prima di morire davvero. Hai già incontrato quello stregone? Ne ho abbastanza dei tuoi giochetti omicidi. Allora puoi morire in pace, Signor Cage. Attendo con ansia la tua dipartita, Signor Cage. Come metà Hollywood. Ho diversi esperimenti in serbo per te. Senza neanche un invito a cena? Tieni mai il conto delle tue bugie? Non esiste cifra che possa contenerle. Ma hai pensato di usare il tuo genio per il bene? Lo faccio, Signor Cage. Faccio il mio bene. La vita di un buffone non ha alcun valore. Ti piacerebbe? Diverto milioni di persone. La tua spavalderia è infondata. Forse non conosci il tuo avversario. Chi osa sfidarmi è spacciato. Ti riesce bene la parte del cattivone. Scherzavo sui muscoletti. Sei scolpito. Le lusinghe non ti salveranno. Sei proprio banale come cattivone. Che cosa vorresti dire? È dura governare il regno esterno. Una donna non si riposa mai. Se io avessi una regina sarebbe come te. Sono fuori dalla tua portata, Cage. Recitare non è dignitoso, Cage. Ma avresti presentazioni ovunque. Ti sei mai infortunato girando un film? Non c'è osso che non mi sia rotto. Vinci e avrai una parte nel mio film. Sarebbe fantastico, Johnny. Tu e Scorpion non vi siete fatti vedere. Eravamo impegnati a combattere Bi-Han. Pensi che potrei avere successo nel tuo campo? Con un ego come il tuo faresti faville. Primo piano e si gira. Questa sarà l'ultima scena della tua vita. Sapevo di avere complessi paterni, ma tu... Ciò che riguarda la mia famiglia non è affar tuo. Io sono il gran maestro dei Lin Kuei. Ehi, non sono un novellino. Sei fortunato che sia intervenuto Liu Kang. Ti si è congelato il cervello, di sicuro. Sei invidioso perché Liu Kang ha scelto me? È stata decisamente la sua scelta peggiore. Perché sei così? Ti avrei reso una star. Ciò che voglio è il potere, non la fama. Ho conosciuto davvero pochi uomini come te. Si chiama Perfezione, cara. Le Umgadi fanno voto di devozione e castità. Ma dov'è l'Imei? Questo sì che è un crimine. Mi serve una guardia del corpo, ci stai? Richiesta insolente, Cage. In quest'angolo, il pluricampione, Johnny Cage. E in questo, una che se ne infischia. Perché sei così maschio? Metto a frutto i doni che Liu Kang mi ha dato.